ciao trade siete su scarpitambul shiba superstar e bitcoin che ragiona sia con la romeno sigla perfezione guardate la perfezione ecco shiba il daily di shiba guardate che spettacolo guardate che roba bellissima incredibile perché veramente incredibile incredibile però bellissimo movimento ha avuto tempo di riposare qua è stato follia ha fatto un bel ritracciamento la lema 10 tenuto benissimo e lema 5 tenuto benissimo poi dopo ha pensato di crollare fatto due finte due finte sotto la 10 e io sinceramente qua pensavo che crollasse che andasse poi a toccare la 60 eventualmente per poi ragionare in secondo momento invece niente dopo qualche giorno di candelline bellissima questa zona tra l'altro comunque io ero convinto che comunque nasce a crollare lo stesso invece niente candelona il bull bot segnale bomba ha segnalato questo primo rialzo e io per me ne sono accorto ho guardato questo livello qua 0 32 e 4 ho fatto l'ingresso un po più in alto a 0 32 8 date vedere su telegram e ho fatto fatto partire la bicicletta la bicicletta che mi portasse appunto a fare i nuovi massimi e ottenuto per la notte andiamo a vedere ecco la partenza di ieri 32 e 8 l'ingresso e poi dopo si ho tenuto la lema 10 come come stop ovviamente quando sotto a letto non c'avevo lo stop avevo lo stop a 32 sotto 32 quindi 31 9 9 9 9 e poi dopo niente mi sono svegliato verso le 4 solita sosta vp e niente se guardo il book il book fa veramente schifo e quindi non ce la faccio quando vedo il book devo non riesco a fare trading è sempre stato il book più brutto della storia quindi quando volete vedere un book che fa veramente schifo basta guardare shiba perché comunque ha sempre molti più venditori che compratori nel book ma non comando cioè nel book però ci sono anche ci possono essere tanti che vogliono comprare non si fanno vedere e questo è quasi sempre il caso di shiba è incredibile questa cosa quasi sempre molti più venditori che compratori ma sale lo stesso quindi quando vedo quelle cose lì mi fa schifo e devo uscire quindi dopo ho messo uno stop limit e poi dopo me l'ha preso comunque un bel 1300 me lo sono portato a casa però il brutto è che dopo io il mio target era allora vediamo se vi spiego come ho fatto a calcolare i target il mio target era ovviamente andare a superare i massimi e poi ho calcolato un po quel po era ho immaginato che a 40 a 0 4 ci fosse un mega muro quindi mi metto prima mi ho messo 0 39 e 4 mi ero messo come stop profit per la notte ovviamente non l'ha raggiunto quando mi sono svegliato aveva fatto dei massimi a 36 e 4 una cosa del genere e dopo appena è sceso appena bastava guardare il book io sono uscito non ce la facevo e poi dopo ho andato a 0 44 comunque va bene questo è importante portare a casa i soldi comunque cosa succede dove stiamo andando proviamo a vedere di qua che qua siamo ah qua c'è il video che dopo vi faccio vedere bellissimo c'è stato l'incontro in piemonte fra i piemontesi ok qua c'è il livello questo è il livello 0 5 questo è il massimo storico primo giorno di quotazione sta puntando 0 0 0 0 5 sta puntando questa cifra ci arriverà vedremo 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 però effettivamente sta un po' puntando sta cosa qua allora qual è la notizia notizia che forse riuscirà ad andare su robin hood a quotarsi adesso hanno fatto una specie di referendum raccolte firme dovevano raggiungere 300 mila vedremo vedremo comunque prima o poi ci andrà poi bisogna vedere se ci va adesso o no ovviamente se arriva la smentita qua crolla tutto se ci dovesse andare ci sarà hype fino alla quotazione poi crollerà tutto però nel frattempo potrebbe superare questo livello fantastico proprio un numero pari preciso tondo non siamo neanche distanti 0 4 4 però aspettiamo una lateralizzazione ok aspettiamo una bella lateralizzazione finalmente ha rotto 60 nel time frame 5 minuti che ha tenuto perfettamente adesso sta scaricando meno male era ora adesso vediamo se tiene questa la 223 per adesso sembra di no mancano due minuti a fine candela sembra di no e si vedrà quindi sarebbe bello che scaricasse un attimo facesse una bella base e poi se torna di nuovo sui massimi quindi anzi mettiamo time frame 30 minuti dove ecco dovesse tornare qua sui massimi già un 0 4 4 se ci torna un pensierino comunque un alert a 0 4 3 e 5 sarebbe meglio da mettere anche 0 4 3 dai adesso è sceso molto quindi un 0 4 3 sinceramente io ammetterei poi vediamo però l'importante è che fosse andato a scaricare ok io un altro ingresso non l'avrei più fatto almeno che non ci fosse una bella lateralizzazione quindi altre 2-3 candele a 30 minuti e poi andare sui massimi ci poteva anche ragionare però preferisco questo scenario vediamo se va a toccare addirittura la 60 crea un po' una base e dopo vediamo insomma vediamo che succede questo è shiba superstar cosa fa invece bitcoin è che shiba ha fatto questo movimento nonostante lo schifo totale di bitcoin lo schifo totale di bitcoin quindi quindi va ad assaggiare i massimi storici eccoli qua i massimi storici fa la sua candela sopra ai massimi storici e poi dopo crolla tutto fantastico pensavo andasse a toccarla 10 per poi tornare su e invece attenzione soprattutto la candela di oggi se andasse a chiudere sui minimi quindi sotto il minimo di ieri mette male mette male mette male perché poi insomma c'è tanto spazio fino alla 60 non è detto che debba andare per forza fino alla 60 però c'è tanto spazio ma potrebbe essere una finta vedremo cioè adesso sono le ore 20 in questo momento qua quindi c'è tempo e vedremo se è una finta ok quindi per adesso butta male butta molto male ma se appunto se dovesse chiudere sotto i minimi di ieri ok soprattutto se butta se chiude molto sotto i minimi di ieri quindi stiamo parlando di vediamo i minimi di ieri ecco sotto i 59 mila butta abbastanza male ok non è detto che vado alla 60 quindi non è un problema il trend è sempre super positivo quindi chi sta holdando è sempre comunque un trend molto positivo ok questo è solo un respiro dai massimi però nel breve questo potrebbe anche andare a toccare la 60 potrebbe fare delle brutte candele ok vediamo comunque potrebbe essere una finta chiusura candela poi torna già sopra una volta che rompe la 5 torna sopra la 5 siamo già di nuovo in zona per caricare i suoi massimi ok quindi è un attimo che qua inverte il trend rompe la 5 una volta che chiude candela sopra la 5 vuol dire che sta caricando per andare a fare nuovi massimi ok quindi siamo veramente vicinissimi a poter tornare avere un setup per andare a fare i massimi e vicinissimi ad avere un setup per andare a toccare la 60 ok ma questo è il mondo funziona così non c'è niente che va sempre su e basta ok anzi questa è già stata una salita incredibile questa è una salita alla alla ethereum anzi andiamo a vedere ethereum andiamo di là dai andiamo a vedere ethereum anche no ok qua allora abbiamo un ethereum questo è il perpetuo che io uso ormai non facendo più trading con il perpetuo non lo farò mai più per il mondo crypto e lo uso per tenere i grafici comodissimo delle volte c'è dei valori un po' diversi rispetto a spot ma comunque l'importante è il quadro generale allora che succede? succede che ovviamente è più forte di bitcoin ovviamente no perché bitcoin in questo ultimo periodo è stato più forte di fino a questa candela verde era stato più forte bitcoin molto più forte bitcoin e come avevo pronunciato l'ultimo video ci mettiamo un attimo ethereum ci mette un attimo poi a cambiare trend ha preso di mira i massimi è andato proprio a sfiorare i massimi li ha superati per un pelo e poi crollato però fino a questo giorno qua fino a questa candela era più forte bitcoin poi questo giorno ha recuperato ha fatto un 10% pazzesco quasi insomma nell'h24 era un 10% un 11% è andato a fare il massimo ha sfiorato i nuovi massimi è tornato giù però guarda la 10 ha tenuto benissimo la 10 qua ha funzionato benissimo solo come ethereum piace fare piace fare queste rialze con la 10 che tiene benissimo vediamo ma nel caso in cui bitcoin dovesse chiudere molto male la candela qua io farei molta attenzione ok farei molta attenzione finché siamo sopra la 10 perfetto se andiamo a chiudere sotto la 10 insomma anche qua potremmo andare a testare la 60 quindi siamo un po' in bilico setup più forte comunque rispetto a bitcoin questo livello è fantastico il 4200 è uno spettacolo sono già 4 giorni 1,2,3,4 che ha toccato questo livello anche questo 5 giorni quindi la rottura 4200 ragazzi per ethereum è una bomba rottura 4200 spettacolare quindi tenetelo sott'occhio alert come al solito 4100 e mettiamola qua 4150 anche dai 4150 pronti per la rottura di 4200 bomba bene bene nel frattempo che mettiamo il daily ecco nel frattempo che ha piazzato allora qua questo momento qua è andato a fare una notizia di beta è andato su poi di stato beta è andato giù poi notizia di lazio è andato su e adesso sta finalmente scendendo però comunque è forte ok rimane ancora forte però anche qua è un attimo che mi va a testare la 60 andiamo a vedere teniamolo d'occhio xrp niente siamo lì andiamo a vedere matic perchè matic buttava bene in questi giorni dovrebbe essere nei massimi matic oggi sono stato completamente assente ho fatto l'operazione questa notte che ho chiuso poi sono stato completamente assente matic era impostato ce la posso fare matic era impostato molto bene ok ok mmm eh è ritracciato molto bello era questa 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 rottura sembrava che poter invece ci vuole un attimo però comunque la 5 l'EMA 5 sta comandando sta tenendo bene l'EMA 10 proprio è super supporto ma l'EMA 5 sta tenendo bene quindi adesso potrebbe essere momento interessante si potrebbe provare una pescata pescata però farei attenzione comunque con bitcoin perchè bitcoin può far follia è in un momento un po' abbastanza imbitico quindi eviterei in un momento normale si potrebbe provare a pescare sopra la 10 che ha tenuto benissimo eviterei stanotte queste cose non si sa mai qualche flash crash potrebbe fare dei danni ok dovete sapere quando fare quando provare a fare le cose e quando no Phil che ve lo dico fare è uno schifo totale ok qua era to the moon adesso siamo veramente to the bathroom quindi chi sta holdando Phil chi ha comprato qua sui massimi brutti momenti shiba number one tot tot attenzione testato la 10 che ha tenuto benissimo quindi vediamo se rompe se rompe bitcoin romperà di conseguenza anche tutti gli altri questi qua che sono in bilico bet molto forte molto forte candela rossa e fra i massimi di qua cosa abbiamo ah one 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 è stato potente ecco wow one super potente one veramente spettacolare andiamo a vedere 30 minuti che combina spettacolare veramente notevole notevole sta tenendo potrebbe andare potrebbe voler andare a fare i massimi 0.32 tenetelo d'occhio bellissimo livello 0.32 vediamo ecco se mi piacerebbe chiudesse così la giornata un po' di spazio per i massimi e domani avvicinamento dei massimi di oggi spettacolo qua va a fare un'altra bella candela da tenere d'occhio chi fa cambio di candela stanotte tenete d'occhio e niente dai vi parlo un attimino delle questo evento beh l'avete già visto intravisto il video allora questo weekend c'è stato un incontro questo è un video che ho registrato perché ho fatto la diretta con il Piemonte Piemonte si sono trovati hanno fatto un incontro e li ho voluto salutare perché sono stati i primi organizzato da mitico Don Piva anzi Cardinal Piva questo è un lokae faccio delle foto dai faccio vedere le foto aspetta vi rimetto di qua un attimo ok vi faccio vedere le foto se ce la faccio a spostare ecco qua bene li spostiamo di qua ecco i ragazzi vedi hanno preso una sala qua c'è addirittura la vela di 2,80 m di Cardinal Piva grandissimo fantastico come riescono ad organizzarsi bene vedi tutti con il proprio laptop sono trovati sono stati lì tutto il giorno la mattina hanno pranzato insieme sono stati fino a tardo pomeriggio spettacolare questa è una cosa che mi dà tanta soddisfazione perché aveva aiutato la vicenda c'è tanto da imparare ognuno sa qualcosa più di un altro ognuno appunto può fare uno scambio d'opinioni e niente ci sono trovati perfetti sconosciuti guarda che bello una sala in un bar fra l'altro non ha anche pagato la sala hanno pranzato lì gli altri disposizioni nella zona tutti quei loro compiani io mi emoziono vedere queste cose veramente spettacolare ecco il grande piva complimenti veramente allora mi sono voluto collegare mi sono voluto collegare per fare una diretta con loro insomma fare quattro chiacchiere insomma i primi nella storia i primi io ho parlato un po' di un po' di roba e abbiamo fatto un po' di analisi tecnica i primi della storia che si incontrano dalla Bull Family per i fatti loro quindi i primi della regione bravi complimenti e niente volevo far vedere questo e direi che abbiamo finito e niente iscrivetevi ai due gruppi telegram a youtube che sta veramente spaccando il video dei 10.000 dollari è piaciuto un sacco vediamo lunedì che succede se c'è di nuovo ancora qualcosa di particolare farò un video quella sera lì che spiega un po' la situazione vi spiego proprio meglio qual è la strategia da utilizzare su queste società intorno a Trump ok quindi vediamo vediamo che succede se c'è un'altra giornata di follia la sera faccio un video che parlerò di quello vediamo mi fa piacere che è avuto successo qualcosa del Nasdaq ovviamente è qualcosa di eccezionale insomma un movimento pazzesco e niente iscrivete anche a discord Bullbot che ve lo dica fare indispensabile spettacolare e niente ciao